Un fiume rosso, proprio nel senso del colore, si sta riversando da giorni sul torrente San Marco, uno dei due che sfociano nel mare di Contrada Foggia. La segnalazione giunge proprio da quella zona dove i residenti, già provati dai danni del recente straripamento dell'altro torrente, il foce di mezzo, ritengono di trovarsi di fronte all'ennesimo problema di inquinamento e dunque lanciano l'ennesimo SOS alle autorità per intervenire. Le immagini che state vedendo sui vostri teleschermi sono state girate stamattina da un nostro operatore. Immagini eloquenti che testimoniano una situazione assolutamente innaturale, uno sversamento che ha fatto cambiare connotate allo specchio d'acqua prospicente al torrente, i militari dell'ufficio circondariale marittimo e gli ordini del comandante Salvatore Calandrino hanno già iniziato gli accertamenti necessari a risalire all'origine di questo sversamento. Nel frattempo ieri hanno effettuato un prelievo già consegnato questa mattina al laboratorio di riferimento all'ARPA per le relative analisi. Nel breve volgere di alcuni giorni se ne saprà di più, con ogni probabilità comunque siamo di fronte ai residui di qualche attività industriale, situazione che peraltro non è nuova da queste parti. Da anni infatti la spiaggia della Foggia nella fattispecie proprio questo torrente è la destinazione privilegiata, si fa per dire naturalmente, di scarichi di natura diversa non autorizzati. Nel 2011 fu accertata dalla Capitaneria di Porto perfino la presenza di residui della lavorazione delle olive.